60 65 media in sinistra 6 media 60 finale poi prova a popito a sinistra in ritardo montagliare 80 destra 6 oppostamento finale in destra 5 lunga in sinistra 1 lunga poi prova a destra 4 si restringe in destra 5 media 80 in destra 2 si restringe in destra 1 60 in destra 6 su finale in destra 4 lunga in sinistra 2 si apre in 60 in destra 5 lunga su finale in destra 6 sinistra 6 continua su stato attenzione sinistra 6 60 stai a centro sinistra 6 in destra 5 non tagliare 60 prova a destra 2 in sinistra 2 si apre lunga in sinistra 6 in destra 6 e poi sinistra 6 in attenzione destra 5 si restringe e non tagliare dopo il bene in curva a popito a sinistra su porta d'acqua in curva a destra 3 poi sinistra 9 si restringe in sinistra 6 in destra 6 e via in destra 3 in sinistra i lunga e au o o destra 5 lunga poi destra 5 lunga tornate dentro 60